L'unità operativa di gastroenterologia del Presidio di Marcianise ha 4 posti letto, anche se sull'atto aziendale e sul decreto regionale ne sono assegnati 8, però attualmente ce ne sono 4, ma in prospettiva saranno 8. In effetti rispetto ai 4 posti letto di degenza ordinaria assegnati alla nostra unità operativa, i pazienti ricoverati sono sempre il doppio o anche più del doppio a testimonianza della necessità di ricoveri di pazienti gastroenterologici. Le patologie gastroenterologiche vanno ricoverate e seguite da specialisti, quindi non è la stessa cosa ricoverarli in un reparto di medicina e chirurgia e questo ce lo dice uno studio effettuato dall'Aigo, Associazione Italiana Gastroenterologi e Ospedalieri, che ha dimostrato che l'outcome, quindi la mortalità di pazienti emorragici ricoverati in ambienti specialistici e quindi gastroenterologici, è migliore rispetto ai pazienti che sono ricoverati in altro ambiente. Questo a sottolineare l'importanza di avere dei posti letto dedicati e nell'Asle Caserta attualmente solo l'ospedale di Marcianise ha posti letto di gastroenterologia e anche dei de-hospital. Presso la unità operativa di gastroenterologia dell'ospedale di Marcianise, oltre attività di degenza ordinaria e di de-hospital, si svolge un'attività dell'endoscopia digestiva a 360 gradi, quindi conoscopie, diagnostiche operative, gastroscopie, diagnostiche doroperative, RCP, quindi gli esami sulle vie biliari e siamo l'unico ospedale dell'Asle in cui si effettua questo tipo di esame, e quindi l'ERCP, il posizionamento di PEG per pazienti che non possono più alimentarsi in maniera autonoma attraverso la via orare. Facciamo dei turni H12, quindi siamo l'unico ospedale dell'Asle a garantire un'attività endoscopica anche di urgenza, anche nelle ore pomeridiane, attualmente non ancora per i notturni e festivi, ma la nostra attività endoscopica è a disposizione dell'Altrastra, perché se in altri presidi si verificano necessità di urgenze o un'attività operativa più impegnativa, i pazienti vengono trasferiti, o meglio portati, presso l'ospedale di Marcianise, dove possono appunto ricevere un'assistenza generalizzata, anche endoscopica, molto molto più particolare, diciamo. L'endoscopia è rappresentata sempre un fiore all'occhiello per l'ospedale di Marcianise, è una cosa, diciamo, per l'Asle Caserta, un fatto storico, nato ormai da più di 30 anni che ho lavoro in questo ospedale, e stiamo cercando non solo di mantenere, ma di migliorare sempre qualitativamente le prestazioni che noi offriamo alla nostra utenza. L'attività endoscopica in particolare nell'anno 2023 si è ulteriormente incrementata, registrando oltre 3.500 esami endoscopici globali tra alti, bassi ed RCP e diagnostiche operative e speriamo sempre di migliorare, molto dipende ovviamente dalla presenza del personale, perché se io riesco ad avere un numero di persone, delle risorse o mani strumentali, numericamente ma qualitativamente valide, ovviamente io tenderò sempre ad aumentare questa attività. Ma anche i ricoveri sono incrementati rispetto agli anni precedenza, sia per quanto riguarda i ricoveri ordinari che ospitali. In genere i ricoveri ordinari provengono solo dal pronto soccorso, non riusciamo a fare i ricoveri programmati per la grande richiesta che ci sta. Quindi gli accessi sono tanti tanti, anche perché poi dobbiamo considerare, oltre alle attività endoscopiche, le attività ambulatoriali. Noi abbiamo ambulatori dedicati per la celiachia, è l'unico nella nostra ASL, per le malattie infiammatorie e croniche intestinali. Siamo centro di riferimento per la prescrizione dei farmaci biologici e stiamo per recepire il PDTA regionale, che seguirà meglio questi pazienti. Quindi abbiamo un ambulatorio dedicato per le patologie con la prescrizione dei farmaci antivirali, oltre che per tutte le altre patologie gastroenterologiche. Quindi veramente possiamo offrire all'utenza tutti i tipi di assistenza e di valutazione gastroenterologica a 360 gradi. Gli utenti possono accedere per quanto riguarda le attività ambulatoriali, sia esse visite che endoscopiche, attraverso le prenotazioni del CUP, che possono essere fatte recandosi personalmente presso lo sportello CUP del presidio ospedaliero, oppure telefonando i numeri verdi dell'ASL. Per i ricoveri invece in genere accedono attraverso il pronto soccorso, perché noi non riusciamo a dare dei ricoveri programmati per quelli ordinari, perché ovviamente la richiesta e il numero di utenti che ha necessità di ricovero e che accedono tramite il pronto soccorso riempie sempre tutti i posti letto. Per i deospitali invece la prenotazione si effettua direttamente presso il reparto. Una cosa importante da dire è che noi siamo il riferimento dell'ASL per lo screening del tumore del colorretto, di cui io sono la referente aziendale, e quindi anche se ci sono anche altri ospedali dell'ASL che svolgono le attività di secondo livello, il coordinamento delle attività di screening, che significa anche la raccolta dei dati e l'invio dei dati a livello nazionale, è in capo al reparto di gastroenterologia dell'ospedale di Marcianise. I pazienti che afferiscono allo screening vengono a prenotarsi direttamente nel nostro reparto, perché c'è il personale dedicato esclusivamente al percorso screening.